Una buona notizia per l'economia omenese dopo anni in cui la cronaca è stata piena di chiusura di aziende e trasferimenti. Finalmente infatti qualcuno torna ad investire in quella che è stata la capitale del casalingo su scala mondiale. È stato acquistato l'ex capannone Bialetti Averta. I più attenti se ne saranno peraltro accorti visto che da diverse settimane non c'è più il cartello all'esterno con la scritta vendesi. Un'azienda acusiana sembra anch'essa legata al mondo del casalingo trasferirà lì la sua attività produttiva in tempi abbastanza stretti. Da palazzo di città non attrapela nulla sull'identità dell'azienda anche per volontà dei diretti interessati. Ma il neoassessore alle attività produttive Mattia Corbetta non può che confermare le voci che si rincorrono da tempo in città. Posso confermare che il capannone ex Bialetti spiega l'esponente in giunta di Fratelli d'Italia è stato effettivamente acquistato da un'azienda acusiana. Abbiamo incontrato i proprietari nei giorni scorsi e da loro abbiamo spiegato le azioni che come amministrazione metteremo sul tavolo per agevolare le imprese. Speriamo che sia il primo investimento di una lunga serie con una inversione di tendenza rispetto al passato che sarebbe davvero importante per Omenia. Conclude lo stesso Corbetta.